ragazzi eccoci sto mi si interrompe sempre il video ragazzi scusate ma quella mia blu dai ma io sto a fare ancora il video allora facciamo lo spareggio? ragazzi l'ultima cosa e poi concludo il video lo spareggio lo spareggio lo faremo in un modo molto strano perchè? fermi sono la lo spareggio dai ok 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 però io c'ho l'arma che è bloccata scusate l'ardo c'è la devira eh va ma tu il video? eh quello l'ho fatto a pezzo eh? l'ho fatto a pezzo cosa il video? è rotto l'ho fatto a pezzo erano tutte queste l'armi sei sicuro? sì c'è c'è no ne manca una che io so dove non c'è 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 dai su giochiamo sbrigiamoci due colpi e poi ok? però il video tuo vabbè lo faccio solo io allora il video no solo io vabbè allora lo faccio solo io vai via oddio ragno aspetta non mi spara che merda dai ma io sono un'arma del cazzo di pinatta ma non stai scatole ma non c'è e io ho preso l'arma che vale due punti quest'arma che ho io vale due punti vedi ti uccido stella ti riesco a prendere ragazzi ragazzi rieccoci sulle palle preso sei morto sì perché tu mi hai preso una volta io due quante due perché questo vale due vieni vieni che schifo non lo tocco più non lo tocco più scappa non male preso sono ucciso, vinto sul culo ragazzi io concludo quel video spero che vi sia piaciuto il video un saluto il video il video un saluto da Emanuele al prossimo video bella